Stiamo andando via, le forze sono rimaste veramente le usi oggi. I Sende Capri ha poi venuto in casa. Allora, tra poco, cioè, credo più o meno alla fine di ottobre uscirà un disco, che è quello nuovo. Lo so che io sbaglio sempre tante. Quindi, tenetela per buona alla fine di ottobre, ma non si sarà con sicurezza. Ci sarà questo disco e noi speriamo che, insieme a di te, anche tutte le altre canzoni riescano ad entrarvi nell'anima e andando via, se ve la ricordate, questo è il primo singolo di questo disco. Non sai quanto far male e farti male, ma sembra questa. L'unica viola come questa. Ma io ho fatto una curiosa tua ragione, che un'incosciente. Io ho scelte, io d'azio. Prima che l'odio e il suo vento smassi in via, da pure dente. Io, mamma, vorrei capissi che... Io ci sarò! Io ci sarò! Io ci sarò! No, 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 no. No, 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 no.